macchina che accelera sono partiti la lotta per il comando con all'esterno Piero Lor che cerca di andare a condurre all'interno c'è il numero 4 Pimbal Wizard che è partito forte, ma Piero Lor sta passando subito Peleo Deymar però a largo, Peleo Deymar che va a spingere su Piero Lor mentre Pimbal Wizard al secondo davanti al numero 1 Polifemo Rec con il 13 adesso al comando, Peleo Deymar che ha soppreso tutti prendendo un lancio eccezionale dalla seconda fila 27,9 per i primi 400 e ora Nello Gabora al comando cerca di rallentare, è rimasto scoperto Peteto Pra che si trascina Pra e Sambro SM mentre anche Peroni cerca di venire a largo intralciando Pra e Sambro SM Lorenzo Zollo però non è voluto rimanere chiuso e così Pra e Sambro è costretto a venire in terza volta Cavalli dopo 800 metri di gara 59,7 nel frattempo per il battistrada Peleo Deymar che guida nei confronti sempre di Piero Lor quando si giunge al chilometro passato in 1,15 e mezzo è dura venire a largo perché il battistrada cammina Piero Lor alla destra libera Peteto Pra sul passo si sta mettendo terzo poi dalle retrovie cerca di avanzare anche il numero 9 Ptfoto SM Peteto Pra adesso si ingamma va in caccia del battistrada che sembra aver speso Piero Lor lì sotto cerca di riorganizzarsi ma Peteto Pra va più facile su Peleo Deymar Cavalli che escono dalla curva con Peteto Pra che ha messo sotto Peleo Deymar e sta passando Peteto Pra che fa valere condizione atletica superiore Peteto Pra che passa e va a vincere nei confronti di Piero Lor e poi del 13 di Peleo Deymar mentre quarto all'interno il numero 1 di Polifemorec con all'esterno il 9 di Ptfoto SM bella vittoria per Peteto Pra Edoardo Bacalini la quota di 3,80 1,15 8 il tempo al chilometro per questo allievo della Starlight allenato da papà Manuel è tutto per le corse del San Paolo noi ci rivediamo venerdì sempre con inizio alle ore 15 buonasera a tutti grazie a tutti